Salve a tutti, allora faccio questo video per spiegare un po' a tutti come alzare la moto sul cavalletto centrale che è una cosa che ho visto che in tanti vedete come un problema allora partiamo dal termine alzare la moto sul cavalletto centrale, la moto non si alza questo è l'euro più grosso, quando pensiamo di alzare la moto sul cavalletto centrale siamo portati a credere che noi dobbiamo alzare la moto sul cavalletto centrale no, noi la accompagniamo, la moto va in cavalletto centrale quasi da sola sembra assurdo ma è così la prima raccomandazione, tendenzialmente noi crediamo che molti di noi all'inizio, almeno io quando avevo il transalto questo per me era un problema enorme perché il cavalletto centrale in transalto era veramente impossibile e di prendere la moto un punto d'attacco, l'altro punto d'attacco e portare la moto indietro finché noi tireremo la moto indietro la moto non andrà sul cavalletto centrale vi fate un culo così inutilmente la moto bisogna semplicemente accompagnarla in alto ora, i punti d'attacco, questo è un errore comune questo non va bene, questo è un errore grosso qui avrete già un punto di attacco alto è difficile esprimere una forza da questo punto il punto migliore è la pedana passeggero questo assolutamente è favoloso molti cavalletti centrali addirittura hanno la maniglietta qua in basso non per l'acica credo per cui attaccatela qua e la mano col palmo così non così quando la prendete la moto così non la prendete così ma così poi prima di mettere il cavalletto centrale ho qui il terreno che è leggermente insalito all'indietro per cui sarà anche forse un po' più difficile non lo so comunque quando mettete il cavalletto centrale assicuratevi che tutti e due i punti si hanno a contatto con il suolo a volte per la fetta la moto è un po' inclinata e un solo punto poggia e la moto diventa pesantissima in questo caso sta poggiando solo l'interno adesso tutte e due adesso solo l'esterno guarda qui che succede se toccano tutti e due i punti lo noto sta facilmente in equilibrio non la sto tenendo io se le poggia uno solo questa qui in equilibrio non ci sta riesco a mandarla per terra non lo posso fare per cui accettatevi che tutte e due d'un'altra moto inizialmente provate e sentite che tutti e due i punti si gorgiano io quando sono in strada a tuo spalto ci faccio caso ci penso ma sono tutte e due poggiati ok alzo come dicevo i punti per tutta la moto è la pianata passeggero questa mano qui non fa quasi niente questa mano è solo per equilibrio forse nostro ma questa serve solo per fare in modo che lo stesso non va alla testa finista magari guardate senza nessuno sforzo aspettate troppo il centrale non faccio male senza nessuno sforzo io riesco ad alzare il trappoletto centrale ma proprio nessuno sforzo zero assoluto non li faccio basso appoggio tutti e due i lati del pavoletto ok tutti e due poggiati mano col panno verso di noi e guardate senza fare sforzo appena appena la moto sale vi faccio vedere invece per esempio quanto è pesante la moto questa da qua non so niente se ci riesco guarda 5 euro se la prendo qua ecco tanta differenza tantissima per cui ve lo faccio vedere l'ultima volta provando così non avrete nessun problema nel trappoletto centrale tutti e due i punti poggiati mano sul supporto e questa si alza da sola il cavalletto in questo caso è quello originale Honda non sono altre marche per cui niente come avete detto come vedete quando molti di noi dicono che è facile è veramente facile io adesso la moto ce la scarga ma io la alzo anche da carica anche quando sono in viaggio per 15 giorni con tutti i miei bagagli io la alzo con facilità certo non così tanto ma comunque con facilità spero sia stato utile bene Grazie a tutti.